Con l'arresto di Matteo Messina Denaro, a differenza del passato, non ci sono più grandi nomi come obiettivi fra i latitanti di mafia. Vuol dire che lo Stato ha lavorato bene. Così il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ha commentato l'esito dell'operazione di Palermo. Un risultato eccezionale, lo ha definito. Anche chi sembrava imprendibile non lo è, ha detto Cantone, che ha evidenziato comunque la necessità di non abbassare la guardia perché la mafia ha dimostrato di avere la capacità di rigenerarsi anche per quanto riguarda i suoi capi. Riguardo al fatto che Messina Denaro sia stato individuato a Palermo, il procuratore di Perugia ricorda che questo è avvenuto anche per altri grandi capi come Totore Ina e Bernardo Provenzano. Accade, ha concluso Cantone, perché le organizzazioni mafiose trovano consenso e complicità sul territorio. L'arresto di Matteo Messina Denaro è un segnale importante. Vuol dire che lo Stato non ha mollato nella lotta alla mafia, ha detto Fausto Cardella, magistrato di origini siciliane ma perugino d'adozione, ora in pensione dopo averla lungo indagato anche sulle stragi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Cardella ha ricordato che ultimamente la mafia ha abbandonato la linea degli attentati e delle stragi facendosi sotterranea, decidendo di convivere con lo Stato anziché contrastarlo. Ma lo Stato ha dimostrato una perseveranza non scontata, ha detto il magistrato. Anche Falcone, ha ricordato, sosteneva che quando la mafia non spara l'attenzione cala. Ecco perché l'arresto di Matteo Messina Denaro è un segnale ancora più importante. Anche Cardella non è rimasto sorpreso dal fatto che il attentante sia stato bloccato a Palermo, perché ha detto i capi di mafia non si possono allontanare, altrimenti non potrebbero gestire il territorio. In nessun altro posto potrebbero godere poi della rete di protezione che hanno, fatta di amici familiari e complici. Spero che con la cattura di Messina Denaro, ha concluso Cardella, si metta fine ai complottismi e alle elucubrazioni su presunte protezioni ricevute. Che non hanno alcuna prova, la mafia è brava a proteggere i suoi esponenti di spicco sul territorio, ma lo Stato è più bravo e li ha trovati.